Ciao ragazzi, oggi siamo su un nuovo gioco siamo su l'arena Free Fire musicata epica ok, ehm... andiamo a fare una partita e basta facciamo una partita solo una perché ci vuole un sacco di tempo guarda solo questa partita perché ci vuole tardi teniamo pure già una macchina vediamo la zona più sicura c'è troppo io non stavo bene ora sono vicino ci vediamo tutto andiamo tutto è un mezzo tutto buono pistola buona tutto buono dai si va a comandare la puttana che c'è c'è ti sparo proprio oh frate dove cazzo sei ma non lo vedo dove cazzo mi sto sparando sta dietro calcattuta eccoti là bastardo morto non lo sono riuscito ad acciaccare poi c'è resta un altro che bastardo ah vai cagare ventana te ne scappi ne scappa anch'io Ma va a cagare va Cento chilometri rari si vuole Più o meno Devo curare E non è più veloce niente E' più lento Ma perché? Fai prende soltanto cento Ma fa schifo Adesso vediamo Si va a cento chilometri E' più veloce Dove cacchio sono io? Dove cacchio sono? No Eccomi la Andiamo verso la safe No sto andando per niente Verso la safe Non mi sono sparato nemmeno in me No sto andando ...como la mia paccazzana ...che che è chiusa? ...faccio le kill con la macchina no ma dai ci vuole troppo tempo nessuno pirla ecco beh ci sono dei medikit uno me lo sparo speriamocelo più tardi va dai chiesi non è possibile che me ne devo scappare? basta via porca puttana porca puttana porca puttana sono morto vabbè io direi che per questo video è tutto perchè se tutto ne è per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao